Tirano fortunatamente un sospiro di sollievo i cittadini dell'isola di Procida, che hanno seriamente rischiato la paralisi al partire dal 1 aprile, dell'unico presidio ospedaliero pubblico presente sull'isola di Grazella. Dopo l'incontro avuto da una delegazione di cittadini con l'assessore Maria Capodanno, quest'ultima ha diramato un comunicato in cui tra l'altro si legge. A seguito dell'interruzione del 1 marzo ultimo scorso del regime di autoconvenzione per il personale medico addetto alla tornazione e dal servizio ambulatoriale presso i presidi ospedalieri delle isole, l'amministrazione comunale di Procida è intervenuta tempestivamente presso il commissario ad acta al piano di rientro sanitario onorevole Stefano Caldoro e il direttore generale dell'ASL Napoli 2. Dottor Giuseppe Ferraro, per scongiurare il blocco delle attività sanitarie presso il presidio ospedaliero di Procida. Il coordinatore sanitario dell'area ospedaliera dell'ASL, dottor Carlo Fago, ha dato i doni e disposizioni organizzative per assicurare la copertura dei turni e le attività ambulatoriali, finora garantite presso il nostro presidio per mantenere l'attuale livello di assistenza sanitaria. A questo punto quindi possiamo dire che al momento dal 1 aprile è stato scongiurato il pericolo di paralisi dell'attività sanitaria presso il presidio ospedaliero di Procida. Naturalmente il problema resta, così come resta la vergogna che i medici che giungono sull'isola di Graziella per postare la propria attività professionale non vengono pagati da 15 mesi. Grazie.